e lì mio nonno li ha fatto cacca a lei, il suo re, e le ha tirato la cantina, ma su te che era la cacca a lei si partiva con Giamella, Giamella era un nonno da Cesira, la fiora di Giamella aveva scusato il giovane delle barche, e il giovane aveva scusato da Cesira, e la cacca a lei è finita, e la divisa tra me e Giamella, che l'ha fatto dopo che l'ha messo? l'ha fatto quando mi ha fatto questa cacca, ma non è mai finita? nel 1937-1938, non è mai finita qui? non è mai finita, il Bernon e Tugnet, poi l'ha arrivato a Cesira e Adalina, la mia moglie l'ha fatto la sua, era di tutto lui. ho capito vabbè, la roba sua, lì era una famiglia unica, e sempre noi chiamavano i menichi, i menichi perché erano i domenichi dentro, il domenico l'era buono, il domenico l'era lì, insomma, e lì via lì nella fontana, tu vedi che un lavorato a Mida Ferra, e là dove la scarica monta sui, la divisa perché c'è, messe la di Giamella, da là e messe la mia, siamo sempre lì, e qui c'era allora, qui dentro c'era un'altra cacca, un gruppo là, ah lì c'era una cacca? lì, c'era una cacca che andava sui fino alla città, a Casena quasi, e lì era da sotto, perché siamo noi, e da sotto c'era la Giamella, che è sempre divisa da seme, quindi ho fatto però, che sulla cacca, il teccio perdo il diritto, il teccio del casio? il teccio del casio, è una più uscita a Savena, perché l'ho fatta a Casena, le vigi, allora, che ti favo a Casena, e le vigi, l'ho fatta là, a Caliana che interessava, poi buono, l'ho fatto bene, e allora, lì che, a Calera, quasi tutta, perchè non, perchè non tocco le vecchie, no? da là, da là, ah, vedete, con i muri, si, con i muri, praticamente, da là, da vecchie, sulle vecchie, non so se, ah si, vuoi dire, da Cala, quindi praticamente, le vecchie, le vecchie, le vecchie, le vecchie, le vecchie, non so se, mi hai fatto di vedere, la mia, dopo, un tocco di pirone, perchè, con il macio, che era di Michela, e venivo oltre, per entrare, in la casaina, la casaina cilè, eh? la casaina, la casaina, la mia, la mia, la casaina, la casaina, qui, su, la casaina, e lui, passavo lì, con un maschio, venivo oltre, e entrava lì, e la strada, che è stata, la strada, che passa lì, ma è stata, lì, sempre sta, ma le, le passaggi comuni, o le, penso che la strada comunale, penso, perché, per la strada comunale, sarebbe questa qua, però, eh? Cacchi, 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 perché, l'ha fatta dopo, prima, gravi, cacchi, la strada comunale, e la strada comunale, la strada comunale, l'ha fatta ogni volta, una volta, un po' di asfalto, e basta, da adesso, alla strada, e la garganta. E' molto buono, non c'è il sasso, ma non c'è il sasso. Il sasso si è mantenuto. No, no, perché noi non c'è. Non c'è. Perché è bello, perché il sasso è meraviglioso. Perché è bello lavorare. Il sasso viene dalla cava di Castaniera? Non è che è andato. Chi lavora? Tutti. Io lavoravo per fare un'arma di me, a preparare tutto all'inverno, e quando abbiamo messo a lavorare, prima che nel canton, che nemmeno i miei piedi, si rimaneva a attaccare la gamba, lo mettava sotto il braccio, lo mettava in spalle e lo portava sul ponte. E' l'ora di mezzo metro. Allora era un operaio. Anche di Angoli che è meraviglioso. Era un amico grande, ha la magra, grosso d'orso. Lui era forse da Leo. L'ha morto a 30 anni. L'era un paro da Teresina. Si, si, si. Ecco. Si, si, quello va. Ecco, tutta l'acqua. Esatto. Perché la castana è fatta con la sabbia di Davide? La castana è fatta con la sabbia di Davide. Una sabbia di Davide. Una miglia di altre sabbia. La castana è fatta con la castana, o non la fava? La castana è fatta con la castana. E' così. E' così. L'hanno fatta dentro il canale, un murè. Un murè. L'hanno fatta con il padrin di corletti. Il padrin? Il padrin? Il padrin di corletti? Eh. Il padrin di corletti? Si, si. Allora proprio portà per fare... Per fare castana. Eh, sono belli, guardi.